Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi come avete detto dal titolo faremo una challenge insieme al senpai che consiste nel poter utilizzare solo armi marvel per tutta la partita scusate è un po' la visione pagata sono caduto è tutto nelle tue mani lo sai sono caduto è il problema è il coglione è toccato io lì la bocca è giù ieri questo è un po' la visione pagata io mi sto vedendo dentro il culo sta bene coglio ok subito ecco una cassa verde no dai io devo andare a vedere ci capitava il jetpack se ne dovrebbe essere un altro adesso terrestre lo vediamo un volante la leggenda era meglio cosa 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 l'ho 18 di vita per la settimana per il tempo va bene vede 8 6 4 2 no io dove stessi scherzando scusa hai toccato iulia qua c'è l'assa degli avengers che ti mandano iulia che ti mandano iulia qualcuno è stato un po' di pesca che ho finito di mangiare lo scusca l'ho 18 allora uccidio l'ho 18 ok iulia e iulia 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 e e Lug Soghi Ma che cazzo sta vedendo? Gabi scopriamo il documento Gabi Gabi scopriamo il documento Togliii Togli Togt 8888 trastatas Stanto forma R abitanto s Sir x영uel 66 a 1 ma è uno senso ma sciente un guardi alla da ora in poi non utilizzare per questo togli ancora non ando molto cosa stavolo sto facendo togli cavoli ti prego togli togli basta si muta togli la musica togli la musica ok da qua in poi possiamo utilizzare solo armi avendo almeno io togli 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 ma sto sentendo per me ma che cazzo vuoi mutati allora mutati 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 a a capa ma perchè la mia scena scade per 360 secondi 50 347 non esplodo guarda devo difendermi capito cosa poi sono scappato scampo sono scappato ma cosa vogliono ma scappa ma cosa sto facendo io secondo te e stai seguire di fai del tipo poi cerco ma nome dire ma è vivo l'ho tirato uno schiaffo alla luna la luna è esplosso e adesso ci saranno e partirà la mappa e non ho capito facendo un arrivo mangiare finisce questo dai ok hanno fatto un'interazione vieni c'è la spazio spazio ma che cazzo no io non c'ho niente di sostituire difendermi c'è un certo che scappare equilibrato no da fede fa il serio no no ti do un'arma mi sono l'inventario mmm un po' giallo cioè quanti di cosa non stavo lì prima troppo lo scudo no ora si qui se lo troppo c'è vieni vieni da troviamolo capri io non posso applicare armi hai capito? sono armi della madre che ancora si perchè ho ancora ho alcuni calabri vai dietro vai dietro vai dietro torretta torretta no è mia dai è mia questa dai ma tu c'è lo scudo mi serve eh a me cosa mi serve? tipo ancora usare le armi normali spara vedi? cazzo andiamo guarda che siento guarda che siento vedi No! Falcone! C'è Falcone eh! Io sono lì dietro C'è Falcone! C'è Falcone! Dai vai tanto se non siamo al lato Perché siamo al lato Non vanno Non vanno Però non dovete scontare C'è Falcone! C'è Falcone! Capri mi sta per prendere male Sto per crepare Però guarda cosa hai trovato e non puoi usare Eh infatti Però non lo posso usare Ok allora dobbiamo curarmi Ok Perché non so per passare Mi servirebbero i razzi Non so per passare Non so per passare Mi sembra Sì Ma No Ma Poi Questa E' davvero che d'appuixare, vabbè c'è capri un altro capitano americano va bene sta andando meglio del previsto lo scooter è rottissimo lo scooter ragazzi è fortissimo dovete prenderlo quando lo trovate certo se sia da real vi servirà poco però ai miei livelli va bene passivi volete divertire noi siamo in rank ed eppure cioè non è che stiamo facendo normali due potere buttarsi questa è anche e la nostra macchina sbaglio nooo non erano fatti il numero quanti ma sto? tantissimi ma riccardo si è fatto il ma che verificato? ma che c***o? non è proprio quale riccardo quant'è mia? dicio ah per lo stesso e ne mostro visto l'abbiamo sicuro le guante le voglio eh no le voglio io sai che non è ma ce ne sono due ce ne danno due allora viva la fine cosa? vede? io c'è solo una pistolina non te lo dici mai c'è un peruviano capito cosa? va ammazzato molto molto bene l'unico peruviano qua è il senpai chiaro bravo piccone la palla soffrire soffri bastiano vede lo sai che mi sa che il quadrato c'è che avrete stai qua a conquistare che hai poche armi zitto zitto è una religione non va accusato di c***o no no va bene ha capito al volo sto incognito vedi guarda che io sono musulmano eh eh non mi sembra basta cosa butto però? non ce li hanno dati per me no eh sono diventato un mostro signori sei pronti a vedere il bimomix brillare? distruggerò tutto aaaaa che succede da sopra? ma che penso che mi dispiace scappa scappa gabri gabri scappa arrivo grazie 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 ok va tutto bene Sopra c'è un fulgone del res No Gabri devi tornare qua è pieno di roba Per farti potentissimo Devo sbrigarmi Poi torna qua è assolutamente Ok Faccio più veloce possibile Poi torna da sopra Capito mi vieno di loot Dai 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 hai visto quanto loot c'è Vai subito Fotti tene della 6 Faccio il basso C'erano guanti jetpack torrette scudi Sai che diventiamo dei mostri Poi C'è passato un pisello c'è Lo vedo Se non trovi il jetpack Comunque puoi Non prendere il jetpack Tanto è qua se vuoi No no ce l'ho Ok C'hai guanti? Guanti Sono dentro la Sono dentro la Insieme alla pinetta Dentro la casa Vedi io ci muoio eh Ho scomanda da In un progresso Ho scoperto Ho scoperto Hai nulla no Quasi è arrivato uno! Ma non si! Vabbè! Capitone! Adesso ci sono arrivato alla zona! Gli avevo fatto il culo! Ho trovato il suo alleato con il potere di... Che vestura! Lo vedo difficile! Trova pure vinta! Dai! Era complicato! Vai nella zona! Ma vaffanculo! Vai nella zona te! Nella safe! Anche perchè non puoi usare le armi! Non voglio che non si senta la nostra voce per troppo tempo quindi continuiamo a parlare! Sì! Dai! Devi riuscire ad arrivare nella zona e non farti vedere! Uh! Là c'è un cactus! L'hai visto? Sì! L'ho visto! Vai! Raggiungilo facendo il giro largo! E ci sono pure delle splash! Sopra la cambiazione! Ecco! Ecco! Devi fare meno confusione! Là dal benzinaio sopra quella roba blu sono le splash! Eh, l'ho valli! Ecco! Ah, l'ho valla! Upp! Un bel giro! 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 merda c'è poca benzina però non la misa che mi dipende guarda quello quello è quello che mi ha ammazzato alle sono le mie imprese tanto dubito che vinci vai cambia posto ok ok però devi smettere andrea sicuramente sono rinvisi io andrò di contatto non mi comune vostro insomma dove come se vero scappi che non scappi capisco il jet pack però lì a coglione ma dov'è che fai e che fado quello che mi scrive mi aveva ammazzato da prima bravo però se uno contro tutto l'anno di fatto caprile torrette prendi quanti razzi capri quanti razzi bravo ecco come si vince una partita time avengers bene capri adesso ragazzi siamo oro 2 in una partita ero al 50 per cento oro 1 e andiamo a vedere quanto ho fatto al 98 per cento va bene vai ragazzi è finita benissimo si il game l'abbiamo fatto quindi chiudo il video ci vediamo al prossimo video ciao